Ciao! Questo è il primo video del 2017, quindi bentrovati sul canale e mi scuso per la lunga assenza, durante il periodo di Natalizio, ma ho avuto raffreddore, tosse, febbre, febbre 39,2 quindi ero in punto di morte e la tosse che ancora me ne porto un pochina appunto in questo primo video vi voglio far vedere i prodotti che ho terminato ultimamente è un pochino di cose eccole qua e quindi facciamo un attimino il punto delle situazioni ricominciando da così i capelli fanno schifo perché non mi ha preso la piega quella che faccio io normalmente arricciando perché durante la notte mi sono sciolti in realtà e quindi sono venuti giù un po' a schifo e però vabbè, niente di che iniziamo subito dal colore ho fatto il colore nuovo perché avevo una ricrescita che era tanto così e ho voluto provare questa qui della Garniella Nutris Crema questa qui, il resto delle luci questa qui questo è il colore biondo chiaro 8.0 naturale l'ho voluta provare perché comunque era quella che costava di me l'incirca costava sui 4 euro e bene o male mi dava tutte le altre, le caratteristiche delle altre tinte questa è una tinta con l'ammoniaca vediamo se non mi sbaglio si ammoniaca si però non ho avuto particolari problemi io l'alterno alle altre tinte ho usato la L'Olia ho usato la quella della L'Oreal quindi comunque ho utilizzato vari marchi e come ci sono trovata bene mi sono trovata tranquillamente senza alcun problema non ho colato normale uguale a tutte le altre tinte che non siano in mousse basta tranquilla ho coperto bene la ricrescita anche se la dovrò presto rifare perché comunque ho una base un pochino più scura ancora e non ha una molta capacità schiarente e quindi un pochino di ricrescita non me la schiareta quindi penso che fra un paio di settimane rifare un'altra tinta però comunque poi ho terminato il balsamo io l'ho utilizzato come balsamo questo qui è un balsamo ristrutturante della Sienne quindi della Lidl e pur con questo mi ci sono trovata molto bene costa una manciata di euro credo due o tre euro e dura tantissimo perché comunque ne serve pochissimo io una mettevo una puntina lo mettevo solo sulle lunghezze e poi lo lasciavo agire per un minuto o due mentre comunque facevo gli sciacqui insaponavo il viso e quindi mi sono trovata benissimo e questo sicuramente lo ricompro ho terminato questa ha un miliardo di anni anzi in realtà non l'ho terminata però siccome mi si è rotta la confezione l'ho travasata in una pottina in un pot mi si è rotto il tappino quell'interno perché ho stretto troppo però diciamo che ho terminato la crema per le mani agnale e agrumi della bottega verde questa qui mi piace molto si assorbe facilmente ha una consistenza né troppo cremosa né troppo liquida quindi comunque si spande bene sulle mani anche la profumazione è piacevole a Marco non piace tanto però lui è nuovo non capisce niente e a me invece piace mi ci trovo bene nutre molto bene le mani e soprattutto ripara dal freddo che in questo periodo è la cosa fondamentale vi dico solo che in questo momento di fuori fanno vediamo due gradi da altre parti ovviamente però sicuramente anche di meno poi ho terminato come sommo dispiacere il protein repair il trattamento riparatore della Douglas Air questo qui e ve ne ho parlato molto bene e continuo a parlarvele molto bene è il prodotto che ho utilizzato a capelli bagnati li applicavo solo sulle sulle punte e poi andavo ad asciugare mi nutriva le punte le rinforzava le riempiva e eppure questo lo andrò a comprare questo formato intero costa sui 10 euro questa è una minitalia che appunto mi aveva inviato da Douglas poi ho terminato della DAV il go fresh quindi il detorante profumo profumo ottimo come al solito questi hanno una profumazione buonissima a mio parere questo è cetriolo e tè verde e questo appunto è quello qua verde quello normale non mi piace molto mi piace preferisco questa profumazione perché a me comunque piace il mix cetriolo e tè verde poi ho terminato il mio shampoo questo qui della clear men anti forfano io utilizzo solo questo e lo alterno ogni tanto da mia madre con un altro shampoo giusto per spezzare un pochino c'è dell'acqua dentro e questa è la linea diciamo antiprurito perché comunque quella dermatite tendo ad avere molto prurito sul cuoio capelluto e questo me la me la plaga un pochino ho terminato della topex il dermolavaggio antibatterico questo qui io con questo mi ci trovo benissimo e lo utilizzo con il visapur che è praticamente la spazzolina rotante per pulire il viso della philips mi ci trovo benissimo fa un'ottima schiuma pulisce a fondo il viso e ha anche appunto la sua funzione di prevenire i brufoli che nonostante abbia 36 anni ogni tanto ancora qualcuno ne spunta e quindi ben venga anche questo lo ricompro ricompro ho comprato ma semplicemente perché era in offerta della palmolive il fill de massage il bagno schiuma esfoliante questo qui si un bagno schiuma senza lodi senza senza lodi senza infamia ha una profumazione normale non ce n'è anche scritto a che cosa sale del mar morto aloe vera e menta acquatica non ho sentito nessuna di queste tre profumazioni però lavava faceva il suo lavoro c'è di meglio non se lo trovo in offerta lo prendo altrimenti no ho terminato questa maschera della L'Action Paris che è una marca che si trova da OVS questa qui io la provo nello stesso stand dove sta anche le cose della Essence dove lo prendo io praticamente c'è lo stand quello doppio e ai lati agli altri espositori quindi in uno degli espositori appunto a queste maschere è una maschera di profondo riparazione una maschera intensiva aspettavo se dice l'italiano è una maschera intensiva riparatore dei capi è una maschera riparatrice in in intensi prenoito è una maschera rinnovatore intensiva diciamo così intensive renovator è in inglese in italiano non mi viene e praticamente dovrebbe dare anche una brillantezza maggiore ai capelli sinceramente non ha fatto nessun effetto c'era anche il siero per completare il tutto ma non ha notato questo grande risultato sinceramente non credo che la ricomprerò poi mi è piaciuta invece della Garnier Skin Active Leader Bomb questa qui la maschera da applicare sulla maschera di tessuto da applicare sul viso si lascia agire per 15 minuti e poi si toglie e lascia la pelle molto idratata è vero la lascia appunto molto idratata molto nutrita questa è in particolare la versione mattificante perché io avendo comunque una pelle mista tendo comunque ad utilizzare prodotti che agiscano verso un'opacizzazione del viso e questa ha fatto il suo lavoro mi ci sono trovata bene e la ricomprerò quando la trovo perché è difficile da trovare poi ho terminato della Olatz Olax Olatz ho terminato poi della Olatz le le saldettine struccanti queste qui le ho comprate perché costavano poco però non mi ci sono trovata particolarmente bene sono molto asciutte inoltre il fatto che siano per non pelli normali se che miste diciamo non fa bene secondo me in nessuna direzione le ho utilizzate quando non avevo magari altre saldettine sotto mano però niente di particolare ho finito poi per quanto riguarda il contorno occhi sempre della Sienne L'Eye Cream Palm Grenade quindi al al melograno il contorno occhi mi piace molto ha questa consistenza cremosa gelosa che si spende bene sotto gli occhi ne basta una piccolissima dose quindi comunque non c'è un eccesso di prodotto e ha questo effetto tensore che comunque è piacevole quando ho arrivato da Lidl lo compro sicuramente per quanto riguarda poi gli smalti ho terminato questo smalto della Kiko questo è Power Pro Nail Hacker sinceramente non ricordo il numero comunque il colore è questo qui e l'ho diciamo accantonato perché ha cambiato consistenza è diventato molto 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 cremoso molto solido diciamo e quindi è difficile ormai da stendere sulle unghie mettendoci anche il solvente lo andrei sicuramente a rovinare siccome ne ho altri di totalità simili siccome ne ho altri di totalità simili ho preferito comunque accantonarlo però comunque non era male ho terminato la mia maschera nera questa qua la Purifying Peel Off Mask della linea appunto Black Mask della Shields Natural Science questa qui io questa qui la compro su internet e la pago 1-2 euro al massimo mi ci trovo benissimo la uso ormai da anni la compro e la ricompro questa penso che sia la terza o la quarta che ricompro e mi ci trovo bene io ho fatto anche il video in cui vi mostro come la applico ve lo metto qui nel pallino basta cliccare e lo trovate e quindi pure questa mi ci trovo bene e l'ho già ricomprata altro prodotto per il viso che ho terminato è il siero della Douglas Naturals che è questo qui e questo contiene olio d'argan olio d'argan è bio è vegano e e ha la certificazione Natru mi piace mi è piaciuto moltissimo ha questa profumazione molto fresca molto naturale un po' forse officinale però non è pesante anche questo penso che come finisco gli altri seri lo ricomprerò e mi è piaciuto molto questo pure mi era stato inviato da Douglas poi invece abbandono perché è oscena della linea eyebrow designer della Essence la matita appunto su per le sopracciglia questa è la numero 5 soft blonde è una matita dura cioè io scrivo praticamente non lascia niente temperata non temperata cioè devo andare a premere in maniera consistente per far uscire il il prodotto per far comunque scrivere e non è una cosa accettabile e quindi ho deciso di abbandonarla nonostante comunque fosse comoda perché ha pure la sua spazzolina però non potendola utilizzare perché mi dovrei andare a incidere le sopracciglia ho deciso di dirle ciao e basta quindi questi sono tutti i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo ah un'altra novità che vi volevo dire è che ho iniziato a fare il semi permanente mi hanno regalato un kit e quindi sto iniziando a testarlo ovviamente non ho non sono una non ho fatto corsi o niente quindi tutto fa da te vedendo rubando notizie dai video su youtube sui vari siti però se volete che vi faccia un video in cui vi faccio vedere come io faccio il semi permanente con i prodotti one step oppure quelli classici fatemelo sapere però farò la prossima volta che mi rifaccio le unghie devo ancora capire bene i meccanismi di mettere le unghie sotto la lampada perché non ho ben capito quanto tempo ci deve stare io nel dubbio ce la lascio tipo due tre minuti e alla fine si sarà asciugato sto smalto e anzi polimerizzato sto smalto e via quindi se volete fatemelo sapere detto questo spero che per voi questo 2017 sia l'insegna delle novità positive che sia appunto iniziato nel migliore dei modi io ancora devo capire se sarà positivo o negativo però siamo al ora è il 12 siamo al 12 gennaio quindi a voglia ancora a camminare se vi è piaciuto questo video mettete un pollicino in su se non siete iscritti al canale iscrivetevi e fatemi sapere anche che ne pensate dello sfondo a me sinceramente non mi convince è la tenda che ho nei video infatti qui dietro c'è ecco la luce la finestra ancora non la riuscirò mai più chiudere chiudete però non mi convince particolarmente forse giro il tutto fatemi sapere che ne pensate voi se avete qualche domanda o suggerimento o commento sui prodotti che vi ho mostrato lasciate il mio messaggio qui sotto e al prossimo video ciao